buongiorno buongiorno dal dottor claudio saraceno da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola oggi rispondo ad una signora di zurico in svizzera che mi scrive dottore io a causa dello stress sto perdendo i capelli cosa posso fare cosa mi può dare come soluzione perché ho provato tutto senza riuscire ad arrestare questa perdita di capelli a causa dello stress io gli ho risposto che se vuole un mio consiglio spassionato perché ho ceduto tutti i miei diritti all'associazione ipnologi associati los angeles bever hills deve scaricarsi da qualsiasi parte del mondo in cui abita in questo momento anche se di zurico claudio mp3 dcs molto potente dal titolo no calvizie che le faranno ricrescere i capelli in modo significativo e non tanto per parlare perché succede questo perché il subconscio controlla tutte le emozioni come lo stress i sentimenti le funzioni neurovegetative la crescita dei capelli la crescita delle unghie la circolazione del sangue gli organi volontari come il cuore eccetera 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 se tu riesci da solo oppure con l'ausilio dell'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola ad eliminare a convincere il tuo subconscio che non ne vale la pena che deve cambiare canale che deve cambiare immagine come lo stress che può essere un divorzio una separazione la perdita di un lavoro il lockdown la crisi la mancanza di realizzazione eccetera eccetera la vera ragione la conosce il tuo subconscio e non il sottoscritto io ti posso parlare indirettamente da ciò che ho vissuto in tutta la mia vita aiutando le persone per cui che cosa succede che se tu convinci il tuo subconsciente della sera alla mattina ci sarà un'inversione di tendenza i tuoi capelli si spunteranno come per magia come per miracolo come per incanto la magia della tua mente grazie all'ipnosi dcs vera e professionale ma il miracolo fa il tuo subconsciente l'88 per cento della tua mente senza se senza male ho aiutato nel mondo tante tante donne ma anche uomini che perdevano i capelli in varie misure devi soltanto seguire le istruzioni molto facili alla prova di un nonno alla prova di un idiota la prova di un pigro buttare via l'orologio il calendario il tempo e meravigliarti del potere della tua mente perché l'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola unica al mondo non ruba il tuo tempo nel tempo dei tuoi cari del tuo caro che è semplicissima nell'utilizzo è veramente un qualcosa di unico che non ha nulla a che vedere con l'ipnosi fuffa l'ipnosi da spettacolo l'ipnosi paura l'ipnosi da film neanche con la stessa ipnosi pur ottima ipnosi conformista e commerciale che trovi in giro io ho ereditato questa grande arte scienza perché riconosciuta anche come medicina alternativa dell'associazione medica mondiale nel 1958 da due grandi artisti dell'ipnosi vera professionale a v maiuscola di los angels baby reeds la dottoressa rina prunini e il professor dottor michelanghel carai veri artisti che hanno sempre affrontato risolto casi impossibili anche per altre forme di ipnosi come l'ictus l'alzheimer l'autismo il parkinson il cancro e compagnia e così via discorrendo funziona perché se rifletti perché cadono i capelli cadono come le foglie di un albero ok cadono come le foglie di un albero colpito da eventi forti e li puoi fermare soltanto se inverti la tendenza e chi può avvertire la tendenza è soltanto il tuo subcosciente il tuo pilota automatico lo stress ragazzi può fare danni incalcolabili che la tua ragione non riesce neanche a spiegare è un po come se camminassi con la tua autovettura su una strada piena di buche prima o poi la macchina si rompe così è il tuo corpo se il pilota che il tuo subconscio la tua mente profonda i tuoi pensieri le tue emozioni sono negativi porteranno il tuo corpo prima o poi a rompersi e lo stress l'emozione negativa colpisce di solito l'organo in quel momento spazio tempo più debole senza se e senza ma per cui a te capire e fare per trovare una soluzione poi se non vuoi scaricarti l'audio mp3 dicesse no calvizie oppure no alopecia eccetera poi anche oppure non stress molto controllo dei nervi oppure tutti insieme aumenti gli effetti naturalmente per avere più benefici più velocemente puoi anche andare da un professionista dell'ipnosi vera professionale alla v maiuscola della tua zona anche se non usa il metodo di cesso unico al mondo purché questo professionista abbia già affrontato casi come il tuo per non spendere soldi admin cam inutilmente ok perché non esiste nessun effetto collaterale con l'ipnosi dicesse vera professionale v maiuscola perché il sottoscritto al momento ha sospeso le sessioni online di ipnosi dicesse vera professionale con la v maiuscola perché sono molto impegnato non ho molto tempo sono spessissimo all'estero vediamo un po dopo che cosa succede per cui se tu perdi i capelli a causa dello stress ti vedi i capelli sulla spazzola tra le mani e vedi proprio i ciocchi avere cadere anche se non ci credi anche se sei scettica se sei scettico usa questo audio mp3 molto potente che guiderà il tuo subconscio a livello naturale senza nessun effetto collaterale senza manipolazioni senza niente di negativo sono solo parole semplici trasparenti pulite che guidano il tuo subconscio a fare al miracolo della tua stessa mente tu vedrai i capelli ricrescere molto più grossi a livello spontaneo senza indoparti senza ingurgitare nulla dall'esterno fammi tutte le domande il caso ti risponderò gratis compatibilmente ai miei tempi e miei impegni visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi autoipnosi del dottor Claudio Saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni di cesso del dottor Claudio Saracino e fai share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita e seguimi anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni di cesso del dottor Claudio Saracino un bacio un abbraccio amico mio amica mia e alla prossima dal dottor Claudio Saracino ciao